Certo, noi senza nulla togliere l'autonomia evidentemente degli istituti o dei soggetti, perché non vogliamo interferire con la loro autonomia e quindi la libertà anche della ricerca storica, però l'idea, l'intenzione di avere periodici momenti di incontro che ci consentono anche di concertare un'iniziativa a favore anche di quello che può essere una progettualità un po' più organica e meno dispersiva, in una collaborazione fra Regione degli istituti, come dicevo prima, non siamo noi a scrivere la storia, evidentemente noi assessori o consiglieri regionali devono essere gli addetti ai lavori, però trovare la possibilità di avere un'organicità, una sintonia, dobbiamo lavorare un po' come un'orchestra e non come solisti che dappertutto un po' si muovono. In questa direzione va anche la premialità che noi diamo ai progetti di rete, la capacità di diversi soggetti di mettersi insieme, di avanzare progetti di rete, noi infatti vorremmo sempre più andare nella direzione di valorizzare e promuovere i progetti che hanno un carattere regionale, un respiro addirittura anche nazionale o internazionale, che deve vedere evidentemente il concorso di più soggetti alla realizzazione di questi progetti. Noi abbiamo una parte della legge che riguarda il finanziamento a progetti di rete che vengono curati e coordinati dall'istituto regionale Parri, ma che deve vedere il concorso di tutti gli istituti regionali e possibilmente questi progetti condividerli insieme alla regione, all'istituzione, quindi in un tavolo di coordinamento che salvaguarda l'autonomia, ma nel contempo cerca di valorizzare anche la capacità orchestrale di tutti i nostri istituti.